E' un pollo di zucchine, di carota, di poche ve lo dico Lui non voglio, non so fa mai Vero? E le fibre? No, fammete insegnare. Dime se non i vegetariani. Ci fanno le porfette. Ti senti osservata per caso? Un pochettino, sento questa presenza. Allora, le fibre, con le denti, in padella con l'olio, con una carciccia a stranta oppure con un etto di carne macinata. E poi le porfettine sono a mano senso. Ci metti dentro. E' buono? C'è una specialità. Ci metti i semi? C'è questo che vendono le buste dei semi di zucca, dei semi di girasole? Ma ci avevi fatto una ripresa a me e Claudio? Che stava fare da Paolo? Questa conta? Questa è potente come ripresa. Pure Manuela l'hai fatta a ripresa a Manuela. La devo prendere io, perché sennò tu non ci sei mai nelle riprese. Sempre così. Purtroppo. Allora oggi facciamo che la riprendo io, così ci sei anche tu. Questa è un po' 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 non lo potevo lasciare la macchina con 1.000 euro di trafano ma hanno prestato robina vuoi provare? no è sicuro? è il tramonto al tramonto non si arrampica non lo potevo lasciare la macchina con 1.000 euro di trafano non lo potevo lasciare la macchina con 1.000 euro di trafano non lo potevo lasciare la macchina con 2.000 euro di trafano Grazie a tutti